Buongiorno a tutti cari amici, oggi leggeremo un brano dalla lettera agli ebrei, capitolo 11, il verso 6. Ora senza fedi è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Oggi parleremo dell'esistenza di Dio. L'esistenza di Dio nella Bibbia è data per scontata, tant'è vero che ci sono alcuni brani nei salmi che dicono lo stolto, ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Quindi si presuppone che l'esistenza di Dio sia un fatto chiaro, acclarato, almeno questo nella scrittura. Però alcuni vogliono delle prove, alcuni vogliono delle dimostrazioni. Bene, mi è venuta in mente una storia, proprio in questi giorni di clausura, non possiamo usufruire dei barbieri, dei parrucchieri, i nostri capelli crescono, e mi sono ricordato di una storia, la storia di un credente che entra dentro un negozio di barbiere e mentre il barbiere lo serve, lui sta leggendo la Bibbia. Il barbiere se lo guarda, lo osserva, un po' critico, scuote la testa mentre gli fa i capelli, alla fine del servizio se ne esce con un'affermazione. Sai, io non credo che Dio esista. Il credente rimane colpito, spiazzato da questa affermazione. Perché dici questo? Perché se Dio esistesse, replica il barbiere, non permetterebbe tutta questa sofferenza. Basta che vai fuori per strada e troverai tanta sofferenza, tanto dolore. E io non credo che un Dio buono potrebbe mai permettere tutto questo. Il credente rimane senza parole, sembra accennare una risposta, ma non ce la fa? E' rimasto così spiazzato da questa affermazione così perentoria, convinta del barbiere e quindi lo saluta ed esce sconsolato dal negozio. Mentre si trova ancora pensieroso sul marciapiede, appoggiato alla vetrina del negozio di barbiere, vede un ragazzo trasandato con i capelli molto lunghi. E gli viene un'idea. Rientra nel negozio del barbiere insieme a questo giovane capellone e dice al suo amico barbiere, lo sai? I barbieri non esistono. E il suo amico lo guarda molto meravigliato e gli dice, sì, e allora io che cosa sono? Scusa, ti ho appena fatto i capelli. No, guarda, i barbieri non esistono, perché se i barbieri esistessero non ci sarebbe in giro gente come questo giovane con i capelli così lunghi. Il barbiere gli ripete, guarda che i barbieri esistono, il problema è che non tutte le persone come questo ragazzo vengono da me a farsi servire. Esatto, gli risponde il credente. Dio esiste, ma non tutte le persone vanno da lui. Tu puoi scoprire che Dio esiste solo credendo. La fede ti mette in contatto con Dio. Credendo in Dio tu scoprirai che Dio opera. Dio ti farà un servizio completo quando tu ti accosterai finalmente a Lui. E voglio darti ancora due versi della parola di Dio, che possono aiutarti in questa tua decisione di accostarti a Dio. Gesù ha detto, venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. E ancora è scritto nel libro del profeta Isaia, cercate il Signore mentre lo si può trovare. E ancora scritto nel libro di Geremia, che chi cerca il Signore e lo invoca, Lui si lascerà trovare. Allora, mentre prendiamo il nostro caffè questa mattina, io ti voglio augurare di cercare il Signore e di trovarlo, e così anche tu sarai sicuro che Dio esiste. Grazie a tutti. Grazie a tutti.